E' l'ora del cambio! C'è il salutiamo e ringraziamo il professore! Si ricomincia! Te lo ricordo, può succedere solo a Ciaise! E' l'ora del cambio! E' l'ora del cambio! Non è proibito, si può anche salire, salire! Hai capito cosa vuol dire? Vigari, 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 vigari! Vediamo se il futuro in questo studio. Vigari! E' abitato in piaccia 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 E' il canale più in alto che abbiamo! S'è costruendato macchina! 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 La pelle è fatica! Grazie! Grazie a tutti. 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 a tutti.